buongiorno a tutti allora dopo don gg inter don cherubino inter che piano piano si spera entro le le 16 che siano tutti e due online veniamo a parlare del sorteggi di europa league a cui ahimè non ha partecipato la nostra atalanta eliminata dal copenhagen e lì subito tutti a dire ecco siamo alle solite come escono dalle dall'italia le nostre squadre fanno schifo siamo scarsi eccetera eccetera allora l'atalanta è uscita con il copenhagen ai calci di rigore il copenhagen l'anno scorso giocava alla champions league ed è arrivato negli ottavi è stato eliminato da non so se dal barcellona da comunque da una grossa squadra e comunque era arrivato addirittura aveva fatto parecchi punti aveva passato un girone sicuramente non facile quindi squadra scarsa non è l'atalanta ha perso i calci di rigore perdere i calci di rigore vuol dire che se hai giocato alla pari con la squadra avversaria che non è scarsa comunque veniamo ai gironi che sono addirittura arrivano alla lettera l quindi sono tantissimi quindi partiamo con il gruppo a che vede bayern leverkusen germania ludogore burgaria zurigo svizzera e ai k larnaca cipro sulla carta bayern leverkusen primo quindi metto subito primo posto per il bayern leverkusen e poi tra ludo gorezz zurigo e larnaca è una bella rotta però senza saperne leggere né scrivere come si suol dire metterei sempre al secondo posto ludo gorezz e eliminate le altre due proprio perché ludo gorezz mi sembra una squadra che è più abituata a certi livelli giocava anche in champions nel cupo b abbiamo il salisburgo il celtic il lipsia il rosenborn questo direi che è il gruppo della morte perché francamente non c'è una favorita non c'è una squadra che puoi dire questa arriva prima gli altri tre si scannano no si scannano tutte quattro quindi francamente qua io tiro la monetina e dico salisburgo perché l'anno scorso mi è arrivata in semifinale di europa league e dico il lipsia perché del celtic non mi fido troppo lo slavia scusate erro attenzione però anche a rosenborn cioè io le ho buttate di ma tutte quattro possono tranquillamente qualificarsi se ne qualificano solo due ma tutte quattro hanno la possibilità di essere una di queste due perché questo il gruppo b è veramente per ora e poi vediamo gli altri il gruppo c vede lo zenith il cabernam della squadra dal danese il bordeaux e lo slavia praga e qui naturalmente zenith e bordeaux il gruppo di vede anderlet fenerbacee dinamo zagabria e sparta turnova e qua anderlet e fenerbacee dovrebbero dovrebbero passare il turno però attenzione la dinamo zagabria potrebbe fare qualche scherzetto anche lo sparta turnova potrebbe dire la sua nel gruppo e abbiamo l'arsenal lo sporting portoghese il qualabag e il work scapoltava ucraina e qui credo che lo sport in lisbona e l'arsenal dovrebbero tranquillamente passare come prima e seconda il qualabag potrebbe rompere tra virgolette le uova nel paniere soprattutto allo sport in un credo all'arsenal però alla fine della fiera lo sporting dovrebbe farcela la squadra ucraina credo che possa fare ben poco veniamo al gruppo f dove c'è il milan che ha beccato la testa di serie olimpiacos visto che il milan e la seconda testa di tesera nella lista delle seconde teste di serie quindi diciamo che relativamente gli è andato bene sicuramente andare a giocare nel pireo non sarà semplice perché lì il sono calienti però ricordiamoci che l'olimpiacos ha preso quattro pappini dalla dal benfica se non sbaglio se non sbaglio si vinceva 1 a 0 poi quattro gol comunque attenzione perché c'è l'olimpiacos il milan il real betis e il dudelange che è la sorpresa che vi dicevo della squadra lussemburghese che stranamente anziché prendere gommazzate goleade le ha date e quindi anche questo è un girone non semplice io vedo comunque il milan favorito spero mi auguro che non escano con su questo girone il rischio c'è perché olimpiacos e real betis sono tutte e due da prendere con le molle però il milan o primo o seconda dovrebbe riuscire ad arrivare lo metto al primo posto davanti al real betis terzo l'olimpiacos e quarto il dudelange che però non sarà sicuramente lì a fare da sparring partners e la giocherà con tutte quattro con tutte e tre girone sicuramente non facile ma non certo come il gruppo b veniamo al gruppo g che vede villa real rapid vienna sparta mosca e rangers vlescomo anche qui un bel gironcino bello equilibrato direi villa real naturalmente favorito e poi le altre tre si scannano e io vedo bene vedo bene vedo bene ma è francamente vedo bene lo sparta la butto lì il punto sullo sparta ma ripeto le altre tre si scannano rangers rapid vienna e sparta mosca si giocheranno fino all'ultima giornata il secondo posto col villa real che probabilmente sarà quello che farà la differenza magari nell'ultima partita essendo già qualificato potrebbe regalare i tre punti che fanno passare una o l'altra squadra andiamo al gruppo h dove c'è la lazio che anche lei si è beccato un bel gironcino libidine perché giustamente quest'anno le squadre italiane a parte parte si fa per dire la roma che potrebbe essere contenta le altre non lo possono essere perché la lazio nel gruppo h anche questo un bel gironcino non della morte perché c'è la squadretta però le altre due sono da prendere veramente con le molle perché ha preso il marsiglia e la intra francoforte io vedo qualificate lazio e marsiglia perché il line track non mi sembra così fortissimo come le prime due però attenzione perché a francoforte te la devi giocare e non sarà semplice però la lazio dovrebbe passare e anche il milan dovrebbe passare veniamo al gruppo i dove abbiamo il besittas il jenk non il gent il jenk il malmò e il salsbol squadra la norvegese altra sorpresina del torneo se non era eliminato la squadra del tel aviv vado a memoria non erano talmente 21 erano le partite non è che me le posso ricordare tutte comunque anche qui questo è un girone invece abbastanza tra squadrette tra virgolette ma più o meno tutte si equivalgono però sì per simpatia e quant'altro dico besittas e jenk anche se non è simpatia ma credo che il jenks possa essere superiore a malmò e salsburg vedremo poi a febba a dicembre quante ne azzecco i bigliettini questi qua poi li inserisco in un libricino insieme agli altri poi li tirerò fuori a tempo debito perché ora che andiamo a riprendere quel video che sto facendo adesso arriva notte nel gruppo j abbiamo siviglia krasnodar standard liegi e belle degli e sport acrisar belle di e sport squadra turca che manco conosco comunque magari alla prima partecipazione e qua per simpatia verso il nostro giocatore van hensden che gioca nello standard liegi dico siviglia primo e standard liegi secondo anche se teoricamente dovrebbe passare potrebbe passare tranquillamente il krasnodar la squadra turca se passa è sorpresissima sorpresissima del ginone nel gruppo k abbiamo la dinamo kiev l'astana il ren e lo jablonek squadra cecoslovacca e qua direi che la dinamo kiev dovrebbe essere tranquilla al primo posto e astana e ren si giocheranno il secondo presumendo che il jablonek farà la parte dello sparring partner del del vaso di coccio tra i vasi di ferro e tra stan e ren kazakita stan contro francia e punto sulla francia va mettiamo secondo posto il ren ultimo gruppo gruppo l abbiamo celsi paox salonico bate boriso e videoton e qua il celsi bello fresco tranquillo farà una passeggiatina di salute il celsi di sarri si allenerà per il campionato e poi tra paox salonico bate boriso e videoton io francamente vedo il bate boriso secondo e non il pau però attenzione se la giocano loro due il videoton che vi dicevo nel lontano 1986 se non sbaglio 85 86 arrivò in finale di coppa uefa non ce lo vedo ad andare avanti in questo girone anche perché comunque un ripescato era stato eliminato nel quarto ultimo turno di di champions delle preliminari champions quindi però io dico queste due poi staremo a vedere bene abbiamo parlato anche dei gironcini di europa league vedremo a dicembre quanti ne ho azzeccati vi saluto vi ringrazio ci vediamo naturalmente alla prossima ciao